Il nostro progetto d'impresa è Tublex Il Tublex è un sistema tubo in tubo Nel tubo più interno, che è quello più piccolo, scorre acqua calda che proviene dagli scarichi Nel tubo più esterno scorre acqua fredda che riceve il calore dal tubo più interno che è caldo La nostra è una novità nel campo del risparmio energetico Infatti riusciamo a riscaldare acqua fredda con lo scambio di calore e quindi a costo zero Ad esempio una palestra con 110 atleti risparmiati in circa 73 euro l'anno O una lavanderia industriale un 263 euro l'anno Concorrenti diretti sul prodotto non ce li abbiamo Ma consideriamo concorrenti tutti quelli che lavorano nel settore del risparmio energetico Il nostro punto di forza è che il costo del nostro impianto è assai inferiore Duplex di tubo conteniente Sono Pier Davide Silvio Yuri Michael Alex Alessio